358 contagi in 24 ore su 3.402 tamponi processati in provincia. Il bollettino fotografa una situazione stabile giornaliera del tasso di positività che sfiora il 10%, ma che a livello settimanale, se ci si raffronta con i numeri dei contagiati di gennaio, la provincia viaggia su altri numeri, indiscutibilmente più rassicuranti. Da lunedì 7 ad oggi, venerdì 11 febbraio, i contagi sono stati 1.854. Numeri decisamente più bassi rispetto alle prime settimane di gennaio, quando in media i cinque giorni si toccavano i 3.000 contagi. Il tasso di positività che non scende si spiega nel rapporto con i tamponi effettuati, che non sono molto più bassi rispetto al periodo del picco pandemico del dopofestività tra dicembre e gennaio. Da ritenere presente anche il tasso di trasmissibilità, ovvero l'RT, che a livello nazionale questa settimana cala lo 0,89, stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell'unità rispetto al valore di 0,93 della scorsa settimana. In diminuzione anche il valore dell'incidenza di casi Covid-19. Questa settimana è pari a 962 casi per 100.000 abitanti rispetto ai 1.362 della scorsa settimana. Tornando ai dati nei comuni della nostra provincia, il comune capologo si attesta a 67 casi, una discesa graduale ma rassicurante, 26 ad Ariano, 20 a Cervinara. Buone notizie per Montoro, che in queste ultime settimane viaggiava su oltre 20 casi giornalieri. Oggi il bollettino ne riporta solo 6. Calano i contagi anche a Solofra con 12 positivi. Non si verificano ancora purtroppo cambiamenti né per i ricoveri né per i decessi. Nei bollettini giornalieri rispettivamente di Asle e Moscati, tre decessi comunicati oggi ma avvenuti ieri a perdere la vita nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda Moscati, un paziente di 65 anni di Lioni ricoverato dal 4 febbraio scorso, due i decessi al Frangipane di Ariano, una paziente di 77 anni di Monte Calvo Irpino e una paziente di 58 anni di Savignano Irpino ricoverati in terapia intensiva. La situazione ricoveri è la seguente. Presso il presidio ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 29 pazienti positivi al Covid, 4 in degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 1 in terapia intensiva, 12 medicina Covid, 2 in cardiologia. Nella ricovera dell'azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 54 pazienti, 5 in terapia intensiva, 21 nell'adegenza ordinaria subintensiva al Covid Hospital, 23 in unità operativa di malattie infettive, 5 nell'unità operativa di pediatria della città ospedaliera. 83 in tutto i pazienti ricoverati distribuiti nei due presidi ospedalieri Irpino.